La Polizia di Stato di Trieste, in collaborazione con la Procura della Repubblica, Direzione Distrettuale Antimafia, ha concluso un'operazione per smantellare un gruppo criminale cinese specializzato nel favorire l'immigrazione irregolare attraverso la rotta balcanica. L'indagine è partita con l'arresto di un cittadino cinese ad aprile durante i controlli di frontiera a Trieste, trovato con quattro connazionali irregolari appena entrati in Italia dalla Slovenia. Gli approfondimenti hanno rivelato un flusso costante di cinesi senza documenti, trasportato via aerea fino in Serbia e poi in auto attraverso Bosnia, Croazia e Slovenia, fino al confine italiano. Una casa sicura a Cazzago di Pianica, Venezia, serviva da base per i clandestini cui venivano tolti i passaporti per renderli praticamente irrintracciabili. L'operazione ha portato all'identificazione di 77 stranieri irregolari, tra cui donne e minori, e all'arresto di nove cinesi per favoreggiamento aggravato, con misure cautelari disposte dal giudice per le indagini preliminari di Trieste.